Bentornati al consueto appuntamento con il giro nella redazione di Hardware Upgrade. Vediamo insieme quali sono le notizie più importanti di questa settimana. Intel Moorstown, architettura Atom per gli smartphone. NVIDIA, la legge di mura è morta. Google Chrome Beta 5 e Internet Explorer 9 Platform Preview 2, in forte crescita al mercato dei cellulari. Medal of Honor, data di rilascio e nuovo trailer. Intel ha lanciato la nuova architettura Moorstown. Lascio la parola a Paolo Corsini per tutte le novità. Moorstown è il nome scelto da Intel per indicare la nuova generazione di processori Atom. Conosciamo queste CPU in quanto molto popolari perché utilizzate all'interno delle soluzioni Netbook e Netop. Con Moorstown, Intel vuole andare a proporre queste soluzioni per un mercato per essere completamente nuovo. Non tanto quello delle soluzioni mid, quanto quella degli smartphone. Dispositivi che stanno conoscendo una notevole popolarità, grazie a un buon connubio tra, da un lato le funzioni telefoniche tradizionali, dall'altro funzioni computazionali che possono ricordare in termini di flessibilità quelle di un PC. Nell'utilizzo con sistemi smartphone, i processori Atom della famiglia Moorstown hanno subito una serie di innovazioni che portano a contenere sensibilmente il consumo sia a pieno carico sia in idle. E' questo il vero punto di svolta dell'annuncio di Intel di questa settimana. Per la prima volta l'architettura Atom viene utilizzata in sistemi nei quali i consumi sono realmente, realmente molto ridotti. In origine del progetto Atom tendeva proprio a vedere l'utilizzo di questa architettura e di processore all'interno di dispositivi di ridotte dimensioni. Dopo due anni dall'annuncio ufficiale delle prime soluzioni Atom, Intel giunge a questo tipo di risultato rendendo realmente disponibili queste architetture per gli impieghi in smartphone e in tutto quello che è realmente trasportabile. Quando vedremo in commercio le prime soluzioni Moorstown? Presumabilmente a partire dalla seconda metà dell'anno. Al momento attuale sono disponibili vari prototipi basati su sistemi operativi o Google Android oppure Moblin, quindi un'estibuzione Linux ottimizzata per l'impiego in sistemi smartphone e mobile. Sarà molto importante vedere in che modo i vari partner OEM, quindi produttori di telefoni, decideranno di proporre soluzioni Moorstown e soprattutto in abbinamento a quale tipologia del sistema operativo. Secondo Nvidia la legge di Moore è ormai morta. Lascio la parola ad Alessandro Bordin per la sua opinione. Le prestazioni dei processori e il numero di transistor ad esse collegate raddoppiano ogni 18 mesi. Questa è la legge di Gordon Moore, enunciata molti anni fa, che Intel sventaglia ad ogni occasione per rafforzare la propria potenza nel campo dei processori. Una legge destinata a perdere credibilità entro il 2014. A dirlo, oltre a molti analisti di settore, è Bill Delli, vicepresidente ricerca di Nvidia. Bill Delli si dice convinto che i processori, che hanno subito un'evoluzione davvero incredibile nel corso degli ultimi decenni, siano arrivati a una sorta di punto limite. Al raddoppio quindi del numero di transistor all'interno dei processori non corrisponde per nulla un raddoppio delle prestazioni. Bill Delli tira un po' l'acqua al proprio mulino dicendo che il futuro è nel calcolo parallelo. Guarda caso quello che si può portare avanti con il GPU computing. In settimana è stata rilasciata la nuova beta di Google Chrome 5. Il nuovo browser web promette miglioramenti di velocità anche del 30% rispetto alle versioni beta precedenti. Interessante è anche il confronto con la primissima beta di Google Chrome. In questo caso il miglioramento di velocità si attesta nel 200%. Tra le novità importanti troviamo l'integrazione del plugin Adobe Flash Player. Ora l'aggiornamento del componente avverrà contestualmente a quello del browser. Nuova anche la possibilità di mantenere i propri preferiti sincronizzati anche su differenti postazioni. La sincronizzazione funziona anche per le preferenze scelte dall'utente che quindi ha la possibilità di utilizzare anche su PC differenti il medesimo ambiente di lavoro. C'è fermento anche in casa Microsoft. L'azienda di Redmond ha reso disponibile la seconda platform preview di Internet Explorer 9. Come specificato dalla stessa Microsoft, si tratta di una versione ancora ben lontana dalla beta, rivolta agli addetti ai lavori e a tutti quelli che vogliono provare in anteprima alcune funzionalità del nuovo browser web. Microsoft segnala alcuni risultati positivi di questa nuova versione. Nelle prove con Acid 3 si è passati da 55 su 100 a 68 su 100, mentre con SunSpider si registra mediamente un valore sotto i 500 millisecondi. La nuova platform preview è installabile su sistemi con Microsoft Windows Vista e Windows 7 e offre supporto integrato al codec H264, rendendo quindi superfluo l'utilizzo delle tecnologie flash. IDC ha pubblicato in settimana la propria analisi sul mercato dei cellulari, che mette in evidenza risultati molto positivi per i primi tre mesi del 2010. L'incremento del numero di dispositivi immessi sul mercato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si attesta in un più 21,7%, con un risultato complessivo di circa 295 milioni di pezzi. Come di consueto guida la classifica Nokia, ancora sopra quota 100 milioni di pezzi venduti, seguita da Samsung con un solido secondo posto, con una base di 64 milioni di pezzi venduti. Terzo gradino del podio per l'altro colosso coreano, LG, anche se con meno della metà dei pezzi venduti rispetto a Samsung. Circa 10 milioni è invece il risultato che vede battagliare Sony Ericsson e RIM per il quarto e quinto posto, con un risultato lievemente a favore di quest'ultima, che quindi entra nella top 5 in quarta posizione, anche grazie alla crescita del 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il resto del mercato vede un aggregato di circa 75 milioni di cellulari. Il mercato dovrebbe continuare a crescere per tutto il 2010, anche se con un ritmo meno sostenuto, arrivando a fine anno a un risultato circa del più 11%. La linea passa a Rosario per tutte le novità dal mondo dei videogiochi. Electronic Arts ha annunciato la data di rilascio di Medal of Honor, arriverà in Europa il 15 ottobre. L'obiettivo principale con Medal of Honor è ricreare una campagna single player della stessa qualità di Modern Warfare 2, con un prodotto che si concentra su azioni militari in contesto moderno. Insieme all'annuncio della data di rilascio, Electronic Arts ha reso pubblico anche il trailer che state vedendo in questo momento. La singolarità di Medal of Honor riguarda la tecnologia che ne sta alla base. Infatti è costruito su due motori grafici. La componente single player è sviluppata da EA Los Angeles con Arial Engine 3, mentre la parte multiplayer è stata affidata alla software house svedese DICE, che sta usando Frostbite 1.5, ovvero il motore grafico che sta alla base di Battlefield Bad Company 2. Il gioco è sviluppato in collaborazione con il comando che riunisce le operazioni speciali delle varie sezioni dell'esercito degli Stati Uniti. Medal of Honor sarà ispirato dall'attualità. Gran parte della campagna single player, infatti, sarà ambientata in Afghanistan. Il giocatore impersonerà personaggi diversi che fanno parte di alcune organizzazioni militari, cambiando squadra nel corso della campagna. L'edizione odierna di TG Tech termina qui, vi rimandiamo come sempre alla prossima settimana.